Ciao a tutti ragazzi, sono Elisa, volevo mandare un super saluto a tutti gli organizzatori di alta felicità e augurarvi dei tre giorni meravigliosi in mezzo alla musica, alla natura, mi dispiace un sacco di non poter essere con voi e spero di poter tornare l'anno prossimo, sicuramente saranno dei giorni bellissimi e magici, so che sono dei posti fantastici e niente, volevo dirvi godetevela tutta, se potete andateci, è una cosa bella, importante, non ci passano soldi, non ci passa niente, è solo la voglia di stare insieme, sentire musica e vedere dei bellissimi luoghi, niente, quindi un bacio a tutti quanti, grazie a chi lo organizza, buon divertimento, buona musica, buona natura, buon tutto da Elisa, ciao, un super bacio!